Ciao Claudia, come stai? Che fate? Venite a pranzo? Stiamo facendo un piatto di pasta. Mi dispiace, stiamo correndo ora, guarda. Ciao Claudia. C'è De Cecco Pasta Integrale, che con la lette essiccazione conserva il sapore e le caratteristiche nutrizionali. E ha i germi di grano. Vogliamo la De Cecco. Eccola. Vogliamo la De Cecco. Integrale. Ma tu sei senza fiato. Non hai mica corso. Sarà l'emozione. E con una pasta così buona? Rigorosamente. Resta in forma e goditi De Cecco Integrale.